torcia p3 led lancer è una torcia da 140 lumen in alta potenza e 20 lumen in bassa potenza la distanza raggiunta 100 metri con 140 lumen e 40 metri con 20 lumen ad un'autonomia due ore e mezza a 140 lumen e un'ora un'ora e sessanta a un'ora e 6 a 40 lumen la torcia è di piccole dimensioni un pulsante sul retro per accenderla e all'interno troviamo occultate sotto il caricabatteria e la batteria e il laccetto e il laccetto per un metterlo su questo passantino che ha sul retro la batteria di tipo ricaricabile per cui la potete ricaricare quanto vorrete dietro è a vite con guarnizio in cina in gomma anti umidità si inserisce a pressione e si accende in alluminio aeronautico anodizzato ha anche il correttore di fascio stretto e mano a mano si può allargare ha una notevole distanza è una bella portata sempre è un led aumentando aumenta di potenza perché all'interno ha una lente di ingrandimento